Finalmente è venerdì, questa settimana vi suggeriamo tre locali in cui potete anche comprare piante e fiori. La prima idea è di andare da Fiori. Siamo in isola in un piccolo bistrò con soppalco molto curato che vende anche piante e fiori scelti con grande cura. È un posto ideale per fare una cosa durante tutta la giornata e anche qualche tavolino all'esterno. La seconda idea è di andare da Allangolare in via Ampere. Si tratta di un bistrò spazioso con un bellissimo cortiletto che è anche un negozio di piante e fiori e uno studio di progettazione del verde. C'è un altro Allangolare in via Plinio e l'aperitivo vegetariano è molto buono. L'ultima idea è quella di andare da Poma. Siamo in zona Barona in un bar di quartiere che è anche fiorista quindi potete comprare piante e fiori. C'è qualche tavolino all'esterno ed è aperto durante tutta la giornata. Ci vediamo venerdì prossimo con altre tre idee per il vostro weekend. Allangolare in via Plinio e il vostro weekend.